mercedes tu e tua mamma avete due caratteri molto forti so che avete passato dei momenti molto difficili non vi siete neanche parlate per un po me lo raccontato tu prima di partire adesso io non voglio entrare in merito a delle questioni che già avete affrontato pubblicamente ma come sono adesso i rapporti con lei sono non voglio dire che sono come prima ma sono stata felicissima non voglio piangere ma la smettete non voglio dire che sono come prima ma sono stata veramente contenta di partire con il cuore più leggero al pensiero che si è aperta una ovviamente preoccupatissima per l'incidente eccetera ma lei stessa mi ha detto che si sarebbe ripresa che si stava già riprendendo e quindi ho potuto vedere un lato positivo che era quello di di avere una speranza comunque di riallacciare un rapporto con lei che sinceramente a un certo punto sembrava perduto quindi non so descrivere cosa significhi per me grazie a tutti